diceva Martina De Luca, suggerimenti, suggestioni, in qualche modo avanzamenti sul tema. Allora io presento chi interviene oggi ringraziandoli per la disponibilità a partecipare, a preparare insieme la mattinata di oggi. Interviene Marcello Toffanello, che è il primo, dei musei di Casa Romei e Casa Minervi del Sale, sul modello di contratto di prestito e sul Facility Report. A seguire ci sarà Federica Bagnoni del Mambo, che presenta il Vade Mecum del Courier, e poi Martina De Luca, che ritornerà qua per la parte delle liste di controllo per il museo accogliente e la guida sulle buone pratiche. Nella parte finale invece ci saranno Mirella Cavalli della Pinacoteca Nazionale di Bologna e Alberta Fabri, per la Regione Emilia Romagna, su due parti distinte. Mirella Cavalli sul Vade Mecum della ricognizione inventariale, mentre Alberta Fabri rispetto agli strumenti gestionali di Reorg. Quindi avremo anche un passaggio che ci permetterà anche di approfondire un tema che non è esattamente dentro gli strumenti del sistema museale nazionale, ma ovviamente c'entra molto e quindi con Alberta approfondiremo questa parte di Reorg. Alcuni di loro hanno partecipato ai laboratori che hanno prodotto gli strumenti, in particolare Federica e Mirella. Quindi conoscono un po' la genesi, come sono nati e la scelta anche di inserire degli aspetti piuttosto che altri. Altri invece, come Marcello, non hanno partecipato al laboratorio. Ecco, ci interessava proprio, come dire, due punti di vista, cioè sia chi presenta lo strumento conoscendolo e quindi riportando anche con gli occhi, diciamo, di due anni dopo quali sono degli aspetti che potrebbero essere rivisti o anche con le esperienze maturate potrebbero essere riaggiornati, ma anche, come è il caso di Marcello, un punto di vista esterno, come legge lo strumento, quali punti di forza ne vede o limiti che possono essere proprio assolutamente suggeriti e, come dire, inseriti. Lasciamo però poi, tutti insieme siamo d'accordo su tenere i tempi, insomma, ben stretti in modo da dare la parola anche a voi. Quindi io poi mi alzerò, mi alzate la mano, io mi muovo e vi do il microfono. Quindi assolutamente spazio al confronto. Grazie Marcello, a te. Grazie innanzitutto per l'invito. Io, come vedete, ho messo proprio questa schermata in modo che da fare i crediti subito di chi in realtà ha scritto questo documento. Io non facevo parte del gruppo che l'ha creato. Non sono per la verità neanche un registrar, ma ho sempre fatto il curatore e il corriere. Quindi le mie osservazioni saranno molto così, avranno un punto di vista forse meno tecnico su alcune cose, un po' più particolare, spero che servano al dibattito. Vorrei soffermarmi soprattutto su il contratto di prestito dei due documenti. Primo perché credo che il Facility Report sia piuttosto noto e diffuso, mentre non mi pare che il contratto di prestito in questa forma sia un documento che si usa molto. Solitamente, come sapete, una volta accettato di prestare opere, quindi dopo aver ricevuto già una parte della documentazione che sono appunto il Facility Report, il piano della mostra, l'elenco delle mostre richieste, il progetto scientifico della mostra, si decide se dare o no il prestito e solitamente, nella mia esperienza almeno il documento più diffuso è un documento con condizioni di prestito che viene mandato dal direttore dell'istituto che presta le opere all'istituto che organizza la mostra, viene controfirmato e da quel momento appunto si cominciano le vere e proprie pratiche che prevedono peraltro gli ottemperamenti delle cose richieste dalla Circolare 29 del 2019, quindi l'inizio soprattutto per le mostre d'arte e per le mostre internazionali di quella serie di documenti che vanno richiesti, almeno per i musei nazionali, alla direzione generale. L'aspetto interessante di questo documento che vi propongo e che come sapete potrete scaricare e vedere sul sito della Scuola del Patrimonio, direzione generale dei musei, come vedete vi ho sottolineato alcune parti, l'utilità di questi modelli è quello di essere molto generali, quindi di poter essere adattati alle diverse situazioni. Nel particolare ho avuto il piacere anche di parlare con due persone, due colleghe che hanno fatto questo modello di contratto, che sono Tiziana Giuberti, che è registrare ora direttrice del settore arte moderna e delle gallerie d'arte moderna di Ferrara e la collega Anna Maria Piccinini registrarvi delle gallerie estensi, è proprio di aver dato una forma di documento contrattuale a una serie di documenti, spesso non unici, ma diversi e separati, in modo da organizzare il tutto in un unico documento e da fornire uno strumento che obblighi a entrambe le parti. Ora la cosa importante di questo strumento mi pare che sia il fatto che debba essere proposto piuttosto presto in modo da poter riunire al suo interno tutte le questioni, tutte le richieste del prestatore e quindi le condizioni a cui chi accetta il prestito deve poi adeguarsi. Mi sembra utile scorrerle perché, ripeto, l'utilità di questo documento che diventa una buona pratica, cioè un sistema di organizzare le mostre appunto che richiede una certa organizzazione del lavoro, è proprio quello che mette insieme una serie di richieste che solitamente erano legate a documenti diversi. Naturalmente, ecco, vedete qui la richiesta del prestito, come vi ho detto, poi richiede che si facciano le pratiche, quindi non è detto che una volta firmato dalle due parti che si vincolano tutte le condizioni siano ottemperate, ma vanno richieste quelle al Ministero soprattutto. La prima sezione riguarda le condizioni espositive, quindi i requisiti della sede espositiva, a questo punto il facility report che vedremo dopo è già giunto e controfirmando l'organizzatore della mostra si impegna al fatto che le cose affermate nel facility report siano realmente esistenti, siano in atto. Le condizioni ambientali sono naturalmente quelle della normativa nazionale. Ecco, la cosa importante, secondo me, anche di questo documento sono gli allegati, che sono parte fondamentale del documento e sono quelle in cui il Museo che presta può portare le sue deroghe o le richieste particolari rispetto a una normativa nota a tutti. Ad esempio, appunto, le condizioni ambientali sono quelle che tutti noi conosciamo e che possono essere derogate se indicate nell'allegato elenco delle opere, che è un documento estremamente, un allegato estremamente importante a questo documento, a questo contratto che vedremo dopo. Le condizioni di sicurezza sono quelle che anche queste saranno state già esplicitate nel facility report. Io ho sottolineato alcuna parte, ripeto, ho messo quelle che a me colpiscono di più perché, come vedrete, questo documento è visto molto dalla parte di chi presta, cioè tende a garantire, come è giusto, perché prima di tutto ovviamente la conservazione e la tutela, tende molto a garantire il fatto che chi riceve il prestito poi garantisca appunto conservazione, tutela e sicurezza. Vorrei evidenziare però un altro aspetto, che ricevere un documento del genere controfirmato è molto importante anche a chi organizza la mostra, perché vuol dire, come vedete nella parte sottolineata qui, che fin dall'inizio si sanno già quali sono tutte le richieste del prestatore e quindi tutte quelle cose che andranno a incidere sui costi, compreso l'allestimento. In questo caso richiedere, oltre alle condizioni di sicurezza già garantite dal museo e specificate nel facility report, particolari distanziatori, teche e cose del genere, ovviamente vuol dire dover prevedere un costo da questa parte, ma anche sapere da parte dell'organizzazione della mostra che queste cose verranno richieste e andranno messi come spese, come motivo di spesa nell'organizzazione della mostra. Un'altra sezione è dedicata all'imbellaggio e trasporto, naturalmente ditte qualificate, è importante riservarsi la possibilità di rifiutare ditte che non offrono queste condizioni, è importante tutta la parte sul Corriere, su cui non mi soffermo perché si parlerà dopo, ma ancora una volta specificare fin dall'inizio se ci sarà il Corriere, quali saranno le condizioni del Corriere, la remunerazione, la diaria del Corriere, il modo in cui si sposterà, eccetera, sono tutti capitoli di spesa che vanno anche previsti dall'organizzatore. Di qui ho sottolineato una cosa in realtà, perché dalla mia esperienza di Corriere è la più difficile da ottenere, che quelle le prime due righe che vedete sopra, cioè il fatto di poter davvero essere presenti quando si fa la pallettizzazione di opere per trasporti oltreoceano, in realtà gli ambienti aeroportuali, gli angari aeroportuali hanno caratteristiche di sicurezza molto rispettive e difficilmente è davvero possibile vigilare per tutto il tempo, solitamente vengono pallettizzati, lasciati, si può però richiedere ad esempio che qualcuno di un'agenzia di trasporto autorizzato per motivi di sicurezza a fermarsi sul posto possa appunto vigilare sul fatto che le opere non vengano spostate una volta che sono nell'hangar, ma vengano caricate esattamente nel modo in cui è stato concordato. Quindi sono tutte cose che vanno previste inizialmente. Requisiti per l'imballaggio, anche questi non credo, visto il pubblico che è davanti, dover specificare più di tanto quali siano. Mi sembra invece interessante questa cosa, che sarebbe sempre meglio richiedere che la ditta che deve fare il trasporto faccia un sopralluogo preventivo. Anche se, come vedremo, i percorsi espositivi, le aperture, i pesi, le capacità di carico di eventuali argani o cose che servano per una movimentazione interna, saranno tutti specificati nel facility report, comunque che qualcuno della ditta si assuma la responsabilità di vedere il percorso di uscita dell'opera dal chiodo in cui è appesa nella sala a quando verrà portata su strada e caricata in camion, fa sì che si possa evitare qualsiasi contestazione. Lo stesso vale per le dimensioni di ingombro, peso dell'opera stessa. Naturalmente questo comporta anche una maggiorazione di nuovo dei costi, perché se la ditta che fa questo deve anche effettuare un sopralluogo e deve farlo per ciascuna delle opere che movimenta per una mostra, chiederà un preventivo più alto agli organizzatori. Altri requisiti, adesso non sto a entrare nel dettaglio, dico le cose, credo poi che li conosciate. Ancora una volta l'allestimento ovviamente affidato a ditta e personale specializzato. Importante, ma lo dirà ancora una volta, che il Corriere sia sempre presente, quindi che una volta che la tecca o l'opera è appesa al chiodo non venga più mosse, non venga più mosse, importante stabilire la clausola che se queste condizioni non vengano rispettate che si possa procedere al ritiro dell'opera. Importante, capita raramente, ma a me ad esempio è capitato, che nel caso per un errore o una mancanza di un errore nell'allestimento non sia possibile esporre l'opera, l'opera venga immediatamente riportata indietro a spese dell'organizzatore, perché capita invece che l'organizzatore che fa una qualche ragione si trovi l'opera in cosa, pretenda poi di tenerla in un deposito o in una cassaforte per tutto il tempo dell'esposizione. Naturalmente la copertura assicurativa è quella solita, policy of fine art or risk, con valore accettato, che tutti voi conoscete, come vedete c'è un allegato importante, uno degli allegati importanti è proprio quello riguardante le condizioni di assicurazione, la possibilità di rifiutare o accettare indennità governative, invece di assicurazioni private e soprattutto di integrarle, cioè di poter integrare l'indennità governativa, qualora non contemperi particolari tipi di rischio, o integrarla con un'assicurazione privata. Le procedure in caso di danno, va bene, sono anche queste abbastanza scontate. Le mansioni del Corriere le vedete qui scritte, ma ripeto non mi soffermo perché ne parlerà poi la collega in un secondo momento. Adesso si è sviluppata anche molto la possibilità del Corriere virtuale, soprattutto dopo il Covid, quando siamo stati costretti a farlo, capita che attraverso una telecamera si possa seguire da remoto l'allestimento e la movimentazione delle opere, questa è un'altra possibilità. I condition report ovviamente sono un altro dei documenti allegati, anzi fondamentali per il prestito, ancora una volta voi tutti sapete cosa sono, ovviamente vanno fatti basati sulla scheda conservativa dell'opera, la prima cosa si dice che in partenza le condizioni sono immutate rispetto alla scheda conservativa conservata negli archivi del museo, e poi si fanno tutti i passaggi ovviamente ogni volta che l'opera viene movimentata, quindi imballata, spostata, ma di nuovo credo che queste siano cose abbastanza comuni. Importante è specificare i crediti, cioè specificare come il museo vuole essere menzionato in tutte le occasioni, cioè nel colofono iniziale, nella pubblicità, nelle didascalie e nelle didascalie delle opere, come vedete ci sono 5-6 linee dedicate a questo proprio per prevedere tutti i casi, l'utilizzo del logo, si può eventualmente associare il manuale di utilizzo del luogo in modo che il luogo dell'istituzione prestante venga utilizzato correttamente in tutte le sue forme. una cosa molto aperta, perché è una delle più variabili a seconda dell'istituzione, è quello dell'utilizzo del materiale fotografico, quindi come vedete le parti in corsivo sono quelle che sono pensate per essere modificate dalle singole istituzioni. Io credo che sia molto utile, credo che l'utilità di questi modelli sia, come avete visto le persone che ci hanno lavorato, che grandi musei abituati a fare mostre o a prestare opere prestano la loro esperienza magari a piccoli musei e che quindi i musei minori possono utilizzare questi modelli adattandoli e utilizzando l'esperienza di chi con le mostre ha a che fare più spesso. Quindi c'è la possibilità di scegliere tra le varie condizioni qui esposte e andranno appunto modificate a secondo di qual è la politica sulle immagini, di gestione delle immagini che i singoli istituti faranno. Importante dare un riferimento al responsabile dell'ufficio fotografico perché possa dare o consentire la produzione qualora manchino delle immagini e di specificare quali sono le referenze, i costi eventualmente, i cataloghi, banale ovviamente, una parte di cataloghi, un certo numero di cataloghi, assolutamente tre, va consegnato all'ente. Ecco, importante appunto la firma da parte dell'ente organizzatore di assumersi tutti i costi previsti da quanto sopra scritto. compreso, e lo si vedrà anche sotto negli allegati, una cosa che adesso è piuttosto diffusa, cioè l'idea che, visto che un'opera in uno spazio espositivo, un'opera assente, lascia un buco, che si possa sostituire quindi chiedendo o un prestito al museo organizzatore di un'altra opera, ancora una volta con trasporto e scambio delle opere a costo dell'organizzatore, o più banalmente una riproduzione fotografica a grandezza naturale, oppure, come si fa ultimamente, anche sorta di o riallestimenti, o riallestire lo spazio in modo che, diciamo, il buco lasciato dall'opera prestata sia meno evidente e anche questo ha un costo, o addirittura fare piccoli installazioni o cose che possano sollecitare la curiosità del visitatore. Ad esempio, noi nell'anno del tintoretto avevamo i nostri tintoretto del soffitto di Capisani, che sono una quindicina, che venivano prestati a turno, allora anche mettere un punto interrogativo a parete, era molto in alto in questo caso, essendo dipinti pensati per un soffitto, e poi qualche cosa che rimandi alla mostra è qualcosa che può anche interessare a chi la mostra l'organizza, perché è una forma di pubblicità anche della mostra, sapere perché queste opere mancano e dove sono è una forma di pubblicità. Le clausole legali sopra, solite, con la specificazione del foro competente e così via. Vi faccio vedere gli allegati, molto importanti, allora il documento va completato con condizioni di assicurazione, prima di tutto, e vedete un elenco, le prime tre o quattro righe, direi sono piuttosto scontate, altre possono essere utili appunto perché sono particolari, come ad esempio il depreciamento in caso di coppie, sette o parur, se viene danneggiata o addirittura ha perduto un'opera che fa parte di una serie e viene depreciata tutta la serie, e altre cose come la museum close, cose del genere, sono importanti, la rinuncia rivalsa nei confronti dei trasportatori, ma quello direi che è piuttosto ormai diffusa anche questa, e il pensare a tutte le forme di rischio, anche quelle che solitamente sono escluse dal loro rischio, ormai sono diventate purtroppo importanti, anche quelle dati di terrorismo, anche durante il trasporto, e ormai anche quelle per guerra, insomma. Abbiamo appena prestato opera in Polonia, insomma ormai purtroppo le zone di guerra si avvicinano tristemente e pericolosamente. Molto importante l'elenco delle opere con la schedatura, banale ovviamente ciò che serve a identificare il singolo pezzo, ma soprattutto le indicazioni per il trasporto e le indicazioni allestitive già messe in questa fase in modo da appunto prevedere costi e organizzazione fin da principio. Il resto, appunto, le richieste speciali, ancora vi ho sottolineato, vi ho evidenziato quelle che possono comportare costi e necessità organizzative, il fatto di richiedere il restauro dell'opera prima che parta, o un climavox, o anche solo un vetro museale di protezione, qualsiasi forma di allestimento particolare, di carattere protettivo che appunto comporta le stesse cose che si è detto, un'eventuale ripristino alla parete, queste cose le abbiamo già dette. I richiesti di costi amministrativi ormai sono piuttosto diffuse, molti musei ormai richiedono, soprattutto musei che hanno richieste molto frequenti, richiedono, non è esattamente una FI, cioè non un costo del prestito, ma una copertura di un costo amministrativo per il tempo impiegato dagli uffici, diciamo, per le pratiche. E poi le richieste dei costi di riproduzione, nel caso appunto le immagini debbano essere fatte. Vi dico un'altra cosa che ho trovato bella e molto utile, che tutto questo esiste anche in versione inglese, il che appunto nel caso di mostre internazionali è molto utile perché potete prendere questo modello anche appunto per una controparte che non parli l'italiano. credo di averci messo molto, troppo, ma sarò molto più rapido sul facility report, perché insomma credo che sia uno strumento che voi tutti già conoscete. L'utilità ancora una volta è quello di avere un modello nato da esperienze decennali di persone, quindi che possa essere utilizzato utilizzato anche da musei che solitamente... Beh, qui è un po' più obbligato perché in realtà qui il facility report ovviamente è il museo che fa la mostra, che deve consegnarlo. Qui avete l'indice. E le informazioni generali. Vado per sezioni grandi. La presentazione dell'istituto, ecco, può sembrare banale da un punto di vista organizzativo, ma uno dei motivi per cui si presta a una mostra o no è anche la storia e il prestigio dell'istituto, quindi il fatto che appunto l'edificio abbia una certa storia, se ce le ha, delle collezioni e soprattutto gli eventi espositivi realizzati in precedenza fanno parte, diciamo, del pedigree, dell'autorevolezza dell'istituto che organizza la mostra, che sono fra i motivi per cui si presta o non presta a una mostra. Molto importanti poi ovviamente sono tutti quelli relativi invece alla sicurezza e alla conservazione. Il modello proposto è estremamente dettagliato, credo che pochi musei possano riuscire a compilarlo tutto, ma è bene che ci siano tutte queste possibilità e appunto che vengano compilate quelle che è possibile. Si comincia dall'ubbligazione nella città, quindi ad esempio una cosa che chiedono spesso le compagnie, non se si è in ZTL o no, se è raggiungibile, se facilmente è raggiungibile, anche le strade, le dimensioni delle strade, perché ci si sposta comunque con camion, tutte queste cose sono molto importanti, un inquadramento ambientale generale di rischio, quindi riguardante, anche queste purtroppo sempre più frequenti, alluvioni, fenomeni sismici appunto, ci siamo, rischi idrologici e di incendi non relativi all'edificio, ma all'ambiente esterno. La costruzione dell'edificio, i materiali costitutivi dell'edificio ovviamente sono importanti da un punto di vista della sicurezza, come vedete sono molto dettagliate, molto importante però appunto sono la sicurezza e gli impianti, quindi gli impianti di sicurezza, la garanzia di una vigilanza diurna e notturna, le procedure in caso di attacco terroristico o antincendio o di emergenza, di evacuazione non solo delle persone, ma anche delle opere in caso di emergenza, quindi come viene gestita un'emergenza, se si ha il piano a legarlo naturalmente, i vari sistemi di protezione e collegamento con le forze dell'ordine, i vigili del fuoco così, e i tempi di intervento, e poi le cose consuette, insomma, l'illuminazione, la climatizzazione, l'antincendio, quasi sempre i musei stranieri richiedono i tracciati di temperatura e umidità, ovviamente, delle condizioni climatiche, addirittura degli anni precedenti, quindi sempre bene registrarle, averle e allegarle al modello. Eccoci una cosa su cui si raccomandano molto i registri, sempre i percorsi, le dimensioni dei percorsi, soprattutto se non viene fatto un sopralluogo dalle ditte, le aperture delle porte, che devono essere, o eventualmente la possibilità di fare uscire gli oggetti dalla finestra, e tutti gli strumenti di movimentazione, quindi argani, se si fossero cose dei depositi, spesso capita che dai depositi si possono fare uscire le cose con argani, la portata degli argani, il loro funzionamento così. Una delle cose che manca spesso, per evidenti motivi, è il peso delle opere, comporta problemi, ad esempio nel museo in cui sono appena arrivato io, un basso rilievo marmoreo ha causato problemi, perché la ditta si è presentata con un muletto che era non abbastanza robusto da sostenere più sull'opera. Ovviamente è molto difficile, chi è del mestiere li stima a occhio ormai, è molto difficile stimare queste cose, però la movimentazione può essere il momento giusto quando si stacca l'opera, non può essere anche una tela con una grossa cornice a dare problemi spesso, per pesare le opere, registrarle nei nostri archivi, in modo da poterle fornire nel momento in cui dobbiamo movimentarle per una mostra. Ecco, questa è la sezione dedicata all'edificio, se lo spazio mostra ed edificio è diverso da quello dell'edificio, queste cose vengono in parte ripetute nello spazio mostra, giustamente nell'introduzione a questo documento si specifica il fatto che, essendo questo un documento che va consegnato con notevole anticipo, le caratteristiche peculiari dell'allestimento non sono previste solitamente in questo documento, perché l'allestimento viene a seguire una volta che gli organizzatori avranno ricevuto il consenso alle opere, avranno potuto fare un vero e proprio progetto di allestimento. Io non vi terrei oltre, spero di essere state utili. Buongiorno. Buongiorno, sono Federica Bagnoni e lavoro qui al Mambo come registrar. e lo scorso anno ho avuto